Ciao a tutti, quella che state per vedere è una chiacchierata con Dario Bessalini. Dario è un ricercatore, un divulgatore scientifico, uno youtuber e anche un mio amico. La cosa ci ha un po' sfuggita di mano, doveva essere un video, una chiacchierata da 15 minuti, in realtà è diventata quasi più di un'ora. In realtà il motivo è che abbiamo iniziato a divagare, lo vedrete, sulla cucina medievale, su invettive contro la Disney oppure su confessioni personali di specie che abbiamo mangiato o che abbiamo cucinato per altri. Siamo partiti da una domanda molto semplice, quante specie mangiamo? E poi abbiamo iniziato a divagare. È un contenuto abbastanza leggero e quindi spero che ve lo godiate. Detto questo, visto che verosimilmente molti di voi saranno qui perché conoscono Dario ma non conoscono me, vi lascio in fondo al video, in descrizione e nel primo commento, una lista, una playlist con i miei 10 video migliori. Ve la metto perché se per caso volete conoscere quello che faccio su YouTube, io parlo di biologia, evoluzione, ecologia, potete dare un'occhiata appunto ai miei contenuti migliori. Vi lascio quindi al video, ma prima concludo con una cosa. Il 24 novembre terrò una conferenza a Padova in cui parlo di evoluzione, cioè la tiro di evoluzione da Darwin in poi, perché è una cosa a cui tengo particolarmente. Vi lascio in descrizione anche questo e adesso finalmente vi lascio la chiacchierata. Quante specie mangiamo secondo te? Quindi la domanda è proviamo a elencarle adesso perché secondo me escono delle cose interessanti, tipo specie che noi siamo convinti non siano la stessa specie, ok? O viceversa, a volte capita di dire guarda il radicchio... Specie quindi dal punto di vista biologico. Tu sai che io sono un chimico, però stai scrivendo un libro sulle verdure, quindi... Sì, sulle verdure. Già al definire che cos'è una verdura, tra l'altro non è banale, perché non è una definizione biologica. È vero, è vero. Tipo il pomodoro non è né verde. Ah sì, perché poi verdura e uno si aspetta le cose verdure. Il pomodoro prima è verde, poi diventa rosso. Tecnicamente è un frutto, botanicamente è un frutto, è una bacca. Vabbè, insomma... A grandi linee. Allora, quante specie mangiamo? Allora, devo dire che non me lo sono mai chiesto e lui non mi ha detto che cosa... Sennò da secchione sarei andato... Proviamo. A spanne, secondo me, mettendo insieme le specie vegetali e le specie animali, lascerei da parte i batteri. Vabbè, sì, sì. Quelli li mangiamo in modo indiretto. Anche i lieviti, anche i microorganismi. Ecco, i lieviti batteri, per cui lì non saprei dentro... Però, diciamo, limitandoci a... Ma secondo me è difficile superare i 100. Quindi, tutto sommato, abbastanza poco. Se eliminiamo i pesci. Perché di pesci, secondo me, mangiamo molto di più. Allora, però, intendiamoci sul termine mangiamo. Mangiamo noi come uomini o mangiamo... No, no, come facciamo noi italiani. Io, per esempio, di pesci, diciamo, di creature del mare, creature dell'acqua, perché poi ci sono anche i laghi così. Io mangio gamberetti, cozze, vongole, tutti i vari... Orate, branzini. Sì, però anche lì, pesci veri, mangio il rombo, spesso, l'orata, branzino, salmone, pesce spada raramente, il tonno, le trote. Quando c'era mio padre, pescatore, io sono vissuto a trote di fiù. Però è che non ti saprei dire se le varie trote sono specie diverse. Perché lui un giorno diciamo, ho preso la trota e l'idea. L'altro giorno, ho preso la trota... Ma non ci sono almeno tre specie diverse. Cioè, l'idea, l'affario... Ecco, esatto, l'affario. E poi di pesci, o comunque di pesci molluschi, perché poi in Italia... Sì, sì. Cioè, seafood. Sì, sì, sì. Non ne mangio tanti, sì, c'è il polpo, c'è la piora... Poi anche lì, per esempio, io ti dico, non so, io non sono un biologo, per esempio, se il gamberone e il gamberetto sono due specie diverse. Sì, sì. Io so, il gamberetto di fiume, immagino, diverso come specie da quello. Sì, beh, i gamberetti, quelli proprio dal supermercato, sono proprio una specie a parte. Oltretutto vive anche per l'opinione a Cossalmasta rispetto al gamberone, che magari... alle mazzancolle, che magari vengono dal mare, proprio da zone artiche e così via. No, ok, i pesci, secondo me... Ma perché tu sei convinto che noi di pesci... Però sai cosa? Secondo me è perché sei veneto. In parte veneto, io avevo genitori anche io, pescatori, a me piaceva pescare soprattutto da bambino. E tra il fiume e il mare, sì, ok, ho fatto delle strage a metterlo sul canale, questa cosa... No, nel senso che se penso, io penso, tu hai detto l'orata, ok, però penso a tutti i saraghi, sono già 4-5 specie. Sì, ecco. I pagelli, tutte queste cose. Io non li mangio mai, cioè io mi piacerebbe mangiarne di più. Io quando vado al supermercato, vado in pescheria... Ultimamente ce ne sono pochi. Ecco, ma però vedo comunque una grande varietà, effettivamente è molto più grande in un supermercato che non la varietà invece degli animali di terra. Quello sicuramente... Quelli sono pochissimi. Perché sono veramente pochi. Io però, appunto, avevo interpretato la domanda come... Io singolo cosa mangio? Io purtroppo non so cucinare... Il pesce mi piace molto, un sacco. Non so cucinarlo. Cioè, è facile... Perché? Perché i pesci che ti ho citato sono quelli che usano tutti, no? Cioè, il tonno, cioè lo scotti... Lo sgombro, lo fai in forno, il pesce spada, cioè pesci facili. È vero, è vero. Io, per esempio, quando li vedo, vedo i pagelli, vedo gli scorfani, vedo appunto i sarghi, vedo tutta una serie di pesci che anche nutrizionalmente sono di sicuro molto interessanti. Però io sinceramente non so farli. Quindi dici che questo sia un grosso limite. Allora, questo è un limite in generale di molti italiani, della maggior parte degli italiani che non vivono nelle zone animali. Ti dico anche un piccolo aneddoto. Un sacco di persone mi scrive, quando siamo in giro per fare delle conferenze, mi chiede personalmente, dice, ma quando è che farai la scienza del pesce? Se dopo la scienza della pasticceria, la scienza della carne, ti ho citato prima la scienza delle verdure, e mi chiedono giustamente quando fare la scienza del pesce. E io rispondo sempre che... Non c'è mercato. Non c'è mercato. Perché, ma tu quanti pesci cucini? Io se devo andare a mangiare il pesce buono, perché poi il pesce costa. Quindi l'idea di spedere tanti soldi per comprarmi dei pesci nuovi, che non so trattare, non so gestire. Io sono nato in provincia di Varese, vicino a Milano, cioè non ho una cultura gastronomica del pesce, così come tantissimi altri italiani. Per cui gli italiani, nella gran maggioranza, il pesce va a mangiare al ristorante, non c'è in vacanza, per esempio. Per cui tutta quell'enorme varietà che io vedo, in realtà io non saprei dargli il nome scientifico delle specie, ma non saprei neanche cucinarlo. Specialmente i pesci difficili, cioè quelli che bisogna sfintare, tagliare. Lo scorfano, le gallinelle di mare, sono quelli che mi avevano in mente, in brodo, così, in zuppa, quello è buonissimo, però effettivamente è difficile. Io però quando devo fare la... Io lo confesso, compro la busta, vado al supermercato dei surgelati e c'è la busta con già tutti i vari pesci, tranci, i vari pezzi e ci faccio la tutta io. Ah, tu sei veneto? Perché tu lombardo non... Ah, ok, è interessante questo. Nella mia infanzia, ti dicevo, io ho mangiato tanti pesci di lago, di fiume. Mio padre era un pescatore, andava sui torrenti, per cui ho mangiato trote a profusione, ho mangiato dei... Adesso non mi ricordo di barbie. Ecco, i barbie ne ricordo perché non mi piacevano tanto. I pesci delle carpe, sappiamo di terra, perché c'era la geosmina, ho mangiato salmerini, ho mangiato vari pesci che si... insomma, o si trovano nativi oppure li hanno mutati e si allevano, però pesci di fiume o pesci di lago. Pesci di mare per me... Il problema adesso attuale, grosso, però vabbè, questa è una parentesi, poi volevo anche fermarmi sui grossi mammiferi e poi magari appunto anche le piante. E il fatto sai che in questo periodo i fiumi e i laghi italiani sono pieni purtroppo di specie aliene, cioè si stima che metà delle specie... Il famoso siluro nel po'. Ma in questo momento i luoghi in cui ci sono più specie aliene in proporzione sono laghi e fiumi e metà delle specie sono aliene in questo momento. Quindi il libro su mangiamoci gli alieni, quello sarebbe non solo un bel libro, Dario, ma sarebbe un'ottima cosa ecologica. Cioè imparare a mangiare le specie aliene sarebbe una cosa davvero... Ma allora mi dicevano dei pescatori che... Anzi scusami, ti interrompo perché è così. Giusto per, se qualcuno poi dopo in questo video commenta, magari qualcuno, qualche vegano ci sta, che dal punto di vista gli faccia fastidio che noi mangiamo specie, ok. Ma se magari qualcuno ha il coraggio di commentare dal punto di vista ecologico, ok. Sappiate che per esempio mangiare specie aliene di per sé può essere una cosa ottima, ok, dal punto di vista ecologico. Mangiare... Quindi davvero l'ecologia è una cosa complessa per cui non venite a rompermi sul guarda che mangiare il pesce allevamento può essere una cosa problematica. Sì, può esserlo, in certe situazioni può esserlo, però il discorso è molto più complesso. Beh però i vegani, cioè molti vegani lo fanno per una questione etica in generale. Sì, sì, sì. Non credo che il vegano, diciamo, vero, tra virgolette, distinguerebbe tra il fatto... No, però c'è chi lo fa per motivi ecologici e chi lo fa per motivi ecologici fa la distinzione fondamentale. Sì, anche se ti devo fare un appunto culturale, diciamo così, non è... Il considerare una specie aliena o meno dipende anche dal tempo, per cui... Tipo la carpa è stata introdotta dai romani, l'istrice è stata introdotta dai romani, è considerata para-aliena, ok? Cioè è un discorso un po' scivoloso, è più facile pensare agli ortaggi, no? Però appunto il pomodoro è alieno. No, ok, sì, però lì il pomodoro non arriva e invade. Beh, calma, allora... Per quel che... Sì e no, nel senso che comunque per ogni specie nuova che arriva toglie spazio di coltivazione ad altre, no? Questo su cui stiamo d'accordo. Quindi diciamo, non toglie spazio diciamo nei boschi e nei prati, però toglie spazio e quindi toglie se vogliamo agrobiodiversità. Biodiversità, sicuramente. Per cui adesso noi mangiamo... Banalmente, noi mangiamo tutti le albicocche. Le nespole non le mangia praticamente nessuno, tranne in alcune zone, credo, per esempio in campagna, così. Le albicocche sono più buone delle nespole, adesso non si offendano, se gli appassionano di nespole... Cioè, no, capisci? Sì, sì. Quindi, se vogliamo, la biodiversità delle nespole va a sparire. Però ti faccio un esempio che non si mangia, che però ci sono delle specie aliene che adesso noi consideriamo molto italiane. La caccia? No, i pini marittimi. I pini marittimi hanno distrutto gli ecosistemi della macchia mediterranea. Sì, nei litorali. Nel litorale, cioè c'erano gli arbusti, le cose, e l'hanno fatti i romani, no? Però adesso andiamo al mare, invece la pineta, la consideriamo normale italiana, quindi non è più l'aliena. Ancora più emblematico è il caso dell'acacia, Rubinia pseudo-acacia, che sarebbe stata un'aliena, oltretutto introdotta dall'orto botanico di Padova. Colpa vostra. 1500, quello che è. E lì, cioè, in questo momento in quasi tutta Italia, ma soprattutto nel nord Italia, è la pianta dominante. Cioè, ha letteralmente cambiato i boschi, ok? Ecco perché, non lo sapevo, ecco perché il miele e l'acacia è quello più... Tu dillo agli agricoltori, agli apicoltori, che l'acacia è una pianta aliena. Ormai è considerata praticamente para-aliena. Ormai non si può più sradicare. Sono d'accordo e capisco anche il punto che... Quindi anche sugli animali... No, è fondamentale questo. Il problema è quando... Avviene velocemente. È dirompente. Cioè, nel senso, l'isterice in 2000 anni avrà sicuramente fatto un sacco di danni, però in questo momento, essendo una, ha trovato un suo equilibrio ecologico, circa. Sì, è un po' come il discorso dei conigli in Australia, no? Sì, esatto. Però quando ne arrivano tantissimi, inizia a essere un problema. Cioè, tu vai in un fiume, ti trovi il gambero rosso della Louisiana, che si può mangiare. Ti trovi il siluro, ti trovi vari tipi di bus, non so come... Vabbè, altri pesci, inizia a essere problematico. Comunque, cambiamo il nome al video, lo chiamiamo Dario e Giacomo, che discutono sulle specie aliene. No, perché aliene, poi devo dire che il nome è... È brutto. No, a me piace molto, perché richiama un po' i film di fantascienza. Ah, no, ma è latino. No, lo so, lo so, però alieno, no. Così, il nome è molto evocativo, per cui, però che cosa sia un alieno o meno, dipende dalla condizione culturale. Infatti, c'è una cosa di Sting, non so se... Che fa, I'm an alien, I'm illegal, perché dice, I'm an Englishman in New York. Lui è un inglese, no, che va, che è a New York, ed è un alieno. Ed è un alieno dal punto di vista legale, no, perché, vabbè, questa è un cazzata, lasciala pure, tanto... No, ma il concetto di... Il punto è che il concetto di che cosa è alieno o meno, dipende dal contesto culturale, e dalla definizione. Oltre che alieno, poi ci sono altre caratteristiche, cioè invasivo, sì, sì, no, certo. Trasformante, questi sono altri termini che si usano in ecologia, per cui è diverso anche un pesce magari che arriva e è alieno, nel senso che arriva, è all'octono, quindi viene da fuori, ok, arriva, ed è diverso una pianta come per esempio la caccia, che trasforma gli ecosistemi. La budleia, quest'altra pianta, metto delle foto, con dei fiori bellissimi, dove sta risalendo tutti i fiumi d'Italia, cioè letteralmente di sale, perché i semi si vengono trasformati, trasportati, e cambia completamente l'intero ecosistema dei fiumi. Sì, è vero, tu dici, fra 500 anni ce ne fregheremo, cioè ci diremo, ok, è successo, è bello, adesso abbiamo la budleia, il problema è quando ne hai tante piante. Sì, quando avviene velocemente, non è colpa solamente delle specie aliene, io sono stato, insomma, tempo fa, sul, insomma, vicino a Porto Venere, ero in un rifugio, insomma, abbastanza basso, chiamavo rifugio, ma ci si arrivava, insomma, velocemente, e lì a cena, la sera, insomma, sono arrivati i cinghiali, ah sì, sono arrivati sette cinghiali, lì intorno, e c'era il tizio, e il gestore diceva, vabbè, sono qui in giro, però ecco, i cinghiali, per esempio, una specie invasiva, però non è aliena, lì c'è un discorso molto complesso, ed è ancora più assurdo, perché non è aliena, tra l'altro, posso dire, è ottimo, è buonissimo, ok, il cinghiale non è tecnicamente alieno, questa è una cosa assurda, ma in parte, non fa un sacco di danza, geneticamente, perché i cinghiali che abbiamo adesso, sì, c'erano, poi il cinghiale è una storia assurda, perché i romani l'avevano quasi estinto, se ne erano rimasti pochi, perché ne avevano mangiati tanti, sì, ne erano rimasti pochi, nella zona della Spagna, del sud Italia, che poi hanno ricononizzato l'intera Europa, c'è tutta una storia, e poi la parte di qua, cioè la parte centrale d'Europa, era la quale è stata destinata, interessante, sono tornati, in più poi, quello che noi abbiamo fatto, è stato prendere anche tanti cinghiali, dall'est Europa, che sono più grandi, hanno dei, gli animali tendenzialmente, più si va verso nord, più sono grandi, li hanno più prodattori, si sono trovati qua, in cui non c'erano i lupi, cioè, li abbiamo presi per allevarli? Per ibridarli, cioè, per mollarli, per la cazza, quindi c'è davvero un discorso complessissimo, per cui, i cinghiali non sono alieni, le popolazioni attuali, hanno delle caratteristiche tipiche dell'est Europa, quindi, geneticamente, sono mezze, un discorso assurdo, però, vabbè, anche noi arriviamo dall'Africa, dai, anche noi, beh, noi siamo una specie aliena, per definizione, anche se là, siamo paralieni, perché noi siamo arrivati, abbiamo distrutto i neandertal, ci sono fissi, poi noi, noi europei, dico europei, nel senso, noi che abbiamo antenati europei, abbiamo una storia complessa, per cui siamo frutto di varie migrazioni, che si sono sommate, la più grande, neanche la più grande, la prima, 40 mila anni fa, che è arrivata, è quella, ha distrutto i neandertal, si è fusa con i neandertal, ok, e poi altre due grosse, una dal Medio Oriente, e una poi dall'Ezzano Steppica, per cui, insomma, un bel mischiotto, di troppe, troppe, vabbè, stiamo cazzeggiando, quindi, i pesci, i molluschi vari, cefalopoli, facciamo velocemente, effettivamente, non ci ho pensato, ma sono tanti, però appunto, secondo me, singolarmente, ne mangiamo pochi, a meno, e secondo me, ne mangeremo sempre, sempre meno, perché, a parte, i clani classi, il salmone, io che sono appassionato, di pesce proprio, anche pescare, io l'ho visto, e ho pochi anni, nel senso, da, come nei supermercati, si sia passati, da una bella verità, adesso, quasi solo orate, e branzini, che hai, cioè, questo è dovuto, sicuramente all'allevamento, eh, con i suoi pro, i suoi contro, non stiamo qua a ragionare, questo è interessante, ma anche perché sono più facici, c'è, branzino, l'orata, la prendi, li metti nel forno, tu dici, secondo me è proprio una questione di allevamento, cioè, a un certo punto, quello può essere, però, cioè, ripeto, io da cuoco, cioè, ho anche difficoltà, a prendere pesci, cioè, dover prendermi lì, dei libri, però, cioè, fare dei corsi, ma, il pesce più facile in assoluto, comunque ti consiglio il rombo, un rombo occhio dato, con le patate, il pesce più veloce in assoluto è lo sgombro, cioè, non ha spine praticamente, lo metti lì, forno, buonissimo, io rilancio con l'acciuga fritta, ok, sì, va bene, no, no, vabbè, poi, comunque, pesci azzurri che hanno un impatto ecologico interessante, sono utilizzate, parlando anche di tonno, in realtà, ci sono tutta una serie di tonnetti, c'è, c'è la palamita, esatto, quello, anche lì, quasi più niente ormai, tra l'altro, parlando di, ah, palamita che se la fai è buonissima, è un pesce che amavo pescare, adesso, buonissima, buonissima sott'olio, buonissima in tutti i modi, palamita è, no, è buonissima, è vero, no, mi ha fatto venire in mente, non c'entra niente con questa cosa, o meglio, forse sì, è che è curioso che noi, adesso poi c'è la mania del sushi, o comunque del, noi nel Mediterraneo, abbiamo il tonno rosso del Mediterraneo, che poi in realtà è il bluefin atlantico, che poi entra nel Mediterraneo, che però la stragrande maggioranza dei tonni, quelli tonni, non so mai, l'accento io da milanese, quasi milanese, ho detto, sono sbagliato, viene preso e spedito in Giappone, e noi ci mangiamo il tonno pinna gialla, che invece è, viene catturato nell'oceano indiano, tipicamente, è un'oceano pacifico, e viene portato qui, e la cosa buffa è che, appunto, troviamo le scatolette, ma anche i tranci, sono di tonno pinna gialla, messo, messo su come se fosse una cosa, continuo a parlare, no, come se fosse, cioè, un vanto, una tonno pinna gialla, che in realtà, quello migliore, tra l'altro, quello che ha anche, appunto, i banchi sono controllati, perché poi ci sono delle tonnare volanti, che fanno anche un po' di stragi, quindi prendono anche i piccolini, fanno già, non lasciano, sì, non lasciano il tempo, vabbè, però appunto, è buffo, che noi produciamo, il tonno che viene, che viene catturato nel Mediterraneo, finisce in Asia, e noi invece, ci mangiamo, ci mangiamo il tonno, che è di qualità un po' inferiore, mammiferi, terrestri, mammiferi, ne mangiamo, secondo me, molto pochi, molto pochi, e ne mangiamo sempre meno, sono quelle specie, che abbiamo domesticato, praticamente, 9, 10 milioni fa, e sono rimaste quelle, cioè, non è che ne abbiamo domesticate, tante di più, tante altre, ovini, due ovini, cioè, no, scusa, le pecore, le capre, e non stanno in ordine, maiali, che credo stia diventando la cosa, che mangiamo di più in assoluto, forse il pollo, il maiale, il pollo, il pollo sta, non è mammiferi, non è mammiferi, però dico tra, sì, gallus, gallus, le vacche, sì, ma, cos'altro mangiamo? Anche le vacche, tra l'altro, sono aliene, nel senso che sono arrivate, beh, da dove? Dall'Asia, credo, dall'Asia minore, o meglio, l'antenato, tutti questi vengono da Medio Oriente, sì, 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 il maiale, anche più in là, il maiale è quasi, il gallo, cioè il pollo, invece, arriva, credo, dalla Cina. Sì, sì, ci sono due grossi punti di adomesticazione degli animali, uno Medio Orientale, e uno Cinese, poi in realtà ce ne sono anche un altro paio, nel senso che le cavie, le alpaca, eccetera, eccetera, sono state domesticate in Africa, sì, in America, però noi non li mangiamo, quindi non li conto, sì, no, in realtà se vado, se penso al supermercato, quindi, vabbè, bovini, bovino, uno, sì, uno specchio, maiale, conigli, sì, conigli, che in calo, a me piace, sì, infatti ti stavo appunto dicendo che calano anche perché le nuove generazioni non apprezzano più, io per esempio penso banalmente ai miei figli, per esempio a me piace molto il capretto, ma anche l'asino per esempio, ma sono gusti un po' più forti, esatto, e io mi ricordo quando i miei figli erano piccolini, quindi 5-6 anni, e l'agnello per esempio a me piace un sacco, e loro non hanno mai voluto mangiare, perché mi dicevano, per motivi culturali, no, no, mi dicevano papà, salifattoria non mi piace, abituati al cibo dell'asilo, della scuola materna che ti danno petto di polo, quindi non sali niente, gastronomicamente insulso, no, no, peggio del petto di polo c'è il petto di tacchino, ecco non abbiamo, ok il tacchino, il tacchino che tra l'altro, quello sia alieno che arriva, è l'unico animale che abbiamo importato dal contenente americano, perché loro se ne erano magnati già tutti prima, la mega fauna là, sì, lì c'è un mega dibattito sul perché, cioè in alcune zone è stato domesticato, sì, però non c'era più, a un certo punto, quando gli europei sono arrivati nel continente americano, di domesticabile, di mangiabile, c'era solo il tacchino, perché tutto il resto, tutto il resto non c'era, beh no, giù c'era il lama, basta, ah sì, nel nord America c'era il tacchino, giù c'era il lama, è vero, e anche i cavalli li abbiamo mandati a noi, abituati al gusto, diciamo blando, no, del, che poi si dà ai bambini, non si capisce perché, per i bambini si dà il vitello, si dava il vitello, sa veramente di poco, così il pollo, quando gli faceva assaggiare l'agnello, ma anche l'asino, come nello stracotto, cosa del genere, non è mai piaciuto, e quindi ovviamente se ne compra di meno, il cavallo per esempio, il cavallo, so che questo è un argomento, e lo so. No, ma perché io vivo in un centro ippico, quindi a fianco a casa mia c'è un centro ippico, io, vabbè lo dico tanto ormai, io amo il cavallo come gusto, è una delle carni più buone, cioè lo silacciato di cavallo, gli spiace di cavallo sono buonissimi, mia mamma, beh, mi ricordo, io ho imparato a mangiare il cavallo, apprezzarlo, anche se la carne è un po' dolciastra rispetto al... Dopo ti dico una cosa che forse è illegale, no, non è illegale perché l'ho mangiata, dove si può mangiare in Austria, ho mangiato l'orso, ah ok, sì, E' più dolce il cavallo, è ancora più buono. spero non ho mai assaggiato, cioè mia mamma mi faceva il cavallo, infatti una volta c'erano tante macellerie qui, non solo nelle zone, nel Veronese, o nel Veneto, in altre zone, anche proprio in Puglia, se non mi sbaglio, c'era una tradizione gastronomica del cavallo, ma erano diffuse dappertutto, anche perché, mi ricordo che si diceva, i medici dicevano che mangiare il cavallo combatteva l'anemia, quindi mia mamma mi faceva le bistecche. adesso non lo trovi più, cioè già è difficile trovare il coniglio, il coniglio intero o il mezzo coniglio, lo trovo solamente a Natale, a Pasqua, altrimenti magari trovo già solamente i pezzettini, ma è difficile, per cui mancando chi li consuma, e poi mi aspetto anche che a un certo punto diventeranno talmente poco quelli che li consumano e la spinta culturale così forte che prima o poi i coniglio e il ponente cavallo verranno inseriti nei pet, quindi come i cani e gatti. Già qualcuno ci prova, ma per esempio io quando ero studenti di dottorato ho passato un anno durante il dottorato all'Università di Berkeley in California e quindi è lì che ho iniziato a cucinare, a imparare, appunto mia mamma mi spediva le ricette via posta, quella vera, quella con carta, perché non c'era ancora la posta elettronica, a casa e io ho imparato a cucinare la gallina, il coniglio, mi piace io, il coniglio arrosto, e lì ho detto appunto ai miei amici ma dove vado a cercare, e mi hanno guardato come se avessi detto di mangiare il cane o il gatto, perché il coniglio, per non parlare poi del cavallo in Gran Bretagna, e devo dire che però sono riuscito a trovarlo, e l'hai convinto, sono andato, non mi ricordo se è tipo Cosco, qualcosa di così, grandi, e quindi ho comprato il coniglio e poi io l'ho fatto, erano molto così perplessi e poi, ma sai che gli è piaciuto? Perché una volta sono andato a trovarli, forse un anno dopo, due anni dopo in vacanza e mi hanno fatto trovare il coniglio da cucinare, da cucinare, per cui sì, ci sono una serie di aspetti culturali, ma hai ragione, cioè il coniglio, che poi io adoro, il coniglio da lì, cioè molto versato e tra l'altro, a me è molto magra. Ah, le anitre? Ah, quindi passiamo ai volati. Sì, possiamo andare più veloci. Tornando ai mammiferi, c'è un mammifero che però, che non abbiamo ancora citato, che non mangiamo di solito, però utilizziamo, che è la bufala. Ah, ok. La bufala d'acqua, no? Facciamo la mozzarella di bufala. Per il latte, sì. Per il latte. In realtà, ovviamente, molti di questi animali, vengono anche macellati. Io ho provato a assaggiare delle bistecche di bufala, che trovo al supermercato ogni tanto, e non mi fanno impazzire, però conta anche quello. Soprattutto la usiamo per il formaggio. Quindi passiamo. altri mammiferi legali, perché penso che in alcuni posti mangiano la marmotta. Le nutre si potrebbero mangiare, le istrici, ma illegale. Le marmotte credo che siano quelle illegali. Beh, penso proprio che sì. Mi dicono in montagna, alcuni che sono tradizionali, in alcune però sono diventate illegali. Tra l'altro, non so se hai mai letto tu qualche libro di cucina medievale o di cucina romana. Allora, tu da biologo, secondo me, apprezzeresti molto, perché si mangiavano di tutto. quello è il mio sogno. Di tutto. Cosa che adesso, anche solo dirlo, finisci in galera. Beh. No, per esempio, fino al 700, ma già nelle ricette di Mastro Martino, credo ci fosse la ricetta, il cervello di delfino, parlando di mammiche. Il cervello di delfino, che dicono che, io ovviamente non ho mai mangiato e non dico neanche che mi piacerebbe, perché non si può. Però era una delizia, dicevano. E poi, non so, gru, cicogne, ma sì. qualsiasi cosa, qualsiasi cosa si muovesse, mangiavano. I romani, non so, la vagina di scrofa, te lo demotizzano. Per me, finché una specie non è a rischio, o finché non metti un grosso impatto ambientale, ma perché no? Sì, è un discorso, diciamo, complicato, devo dire che, dicendo queste cose, non ti fai tanti amici, ma... Cioè, va bene, è il mio canale, ragazzi, sono fatto così. No, 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 ma va bene, ma stiamo facendo dei discorsi. Quindi, gli altri mammiferi, ti ho detto prima, l'asino l'ho citato, il mulo con t'asino, anche se... è metà, è metà, va bene, quindi abbiamo detto capra, vabbè, cervo, ah sì, la cervigina, selvaggina, cervi, caprioli. Anche qua, paradossalmente, sono specie che in questo momento stanno in una crescita grossa, lì c'è anche una bella domanda ecologica, cioè, consumare molti di questi animali che stanno avendo una grossa crescita potrebbe, ha un impatto positivo, tipo cinghiali. Quindi lì è anche il paradosso, di nuovo, per chi magari vuole criticare questo aspetto, per cui la caccia, che è problematica per molte specie, soprattutto uccelli, magari può essere comoda per altre specie, quindi... Ma sei un cacciatore anche? No, quello no, però anzi io non li sopporto, perché ho parenti cacciatori, non li sopporto, però dal punto di vista della caccia sugli uccelli, eccetera, eccetera, ci sono dei grossi danni, ci sono anche specie che sono legali, pur essendo vulnerabili, e questa cosa per me è assurda, mentre poi hai i grossi ungulati che sono in crescita, ci sono i lupi che crescono e non riescono a starci dietro, e quindi lì a un certo punto o la popolazione viene distrutta da una pandemia o dalla gente che ci vada... Sì, ma sai qual è uno dei problemi che vedo io quando si discute di queste cose con chi non ci lavora, diciamo, dentro scientificamente o magari guardia parchi, così via, e che c'è... cioè, quello che ha rovinato, diciamo, l'immagine dell'ambiente degli animali sono stati i film di Walt Disney, cioè c'è l'idea molto disneyana della natura dove c'è bambi, dove non cambia niente, rimane sempre così, e non invece, non c'è una visione di... Ecologica. Ecologica, dove di anno in anno magari una specie aumenta, l'altra diminuisce, fino a quasi sparire, e quindi è un'inter... la natura, se lasciassimo fare la natura, chi se ne frega? Quante sono le specie che sono sparite prima ancora che comparisse l'uomo, Non è che ha un interesse particolare... No, certo. L'evoluzione agisce attraverso meccanismi anche di estinzione di specie per far spazio... Quando questi ritmi diventano troppo... Esatto. O quando noi, esseri umani, associamo una... così, un'immagine automaticamente positiva ad alcuni animali e negativa con altri. Una volta abbiamo discusso sulle zanzare, io le estinguerei, no? Sì, sì. Nessuno credo che ritenga le zanzare, diciamo, simpatiche, belle, meritevoli di una campagna... Di sensibilizzazione. Esatto, no? Per cui, appunto, una immagine, immagina bambi, immagina lo stambecco, immagina il cervo, che poi sono animali maestosi, belli anche, da vedere c'è anche l'aspetto estetico, e quindi riescono, con difficoltà a vedere un conflitto all'interno della natura, dove ci hanno abituato, no? Certo, certo. Con il bosco dei centoacri, con i vari animali, i pupazzi animali che vivono tutti insieme, per cui, sì, sono argomenti... No, però bisogna parlarne. Sì, quindi effettivamente c'eravamo dimenticati, c'eravamo dimenticate la selvaggina. Vandiamo veloci perché poi chiudiamo, dai, anche perché, ok, i vari uccelli, va bene, facciamo veloce, tanto ormai la maggior parte della gente mangia pollo e tacchino, anche se tutte le anatre, così ce ne sarebbero anche là, una ventina, quarantina di specie che ormai se ne mangia una o due. Sì, sì. L'anatra, l'oca, muta. E io devo dire che l'oca sono... Sì. Sono un grande appassionato. Però lì ci sarebbero specie tipo la folaga, oddio, magari è illegale? No, credo di no. No, credo di no. Ok? E altre specie che si mangiano anche da me, si mangiano, chi abita vicino al Lago di Garda, vicino a Grandi Laghi, sicuramente le mangiano. Ok, verdure. Prima verdure, cereali e legumi che sono due caratteri. Cereali e legumi in realtà ne mangiamo pochissimi. Pochissimi, perché prima ci siamo sgranocchiati un po' di mais, ma mangiamo il riso, tecnicamente ci sono due specie, due specie, sì. C'è la japonica e l'indica. Allora, di frumento in realtà mangiamo soprattutto il tritigum estivum, quindi il frumento tenero. C'è anche il duo. Per la pasta, tipo il 5% di produzione mondiale credo appunto è il durum che è parente ma è una specie diversa. Ci servono i farri? Sì, in alcune zone d'Italia sopravvivono in Toscana per esempio sopravvivono i tre farri, cioè il farro monococco, il farro di cocco e il farro spelta che in realtà il farro spelta è quasi uguale al grano. Il grano tenero è una mutazione pensa del farro spelta, così come il grano duro è una mutazione genetica del farro di cocco, mentre il farro monococco si usa molto poco perché ha delle panne. È diventato di moda adesso che gli hanno dato un altro nome con la X e con la K. Dopo il Kamut se vuoi lanciare una specie che già esisteva ma renderla la star devi dargli un nome. però la proprietà panificatoria è abbastanza scarsa e poi di fatto di fatto niente. Ogni tanto adesso vanno di moda un po' con gli pseudo cereali la maranto la quinoa la quinoa la quinoa il grano saraceno la canapa la canabina non è mai assaggiata però secondo me c'è un sacco di ideologia dietro perché sembra cioè me la spacciano per ci faccio qualsiasi cosa ci sono persone appassionatissime della canapa è un mondo a parte ecco un mondo a parte però boh non lo so io non ho mai ho assaggiato forse qualche biscotto che devo dire che non mi ha particolarmente per capire non c'è THC sono i semi ah no no ovviamente perché poi magari la gente pensa che ci sia la maggior parte della persona penso che la maggior parte della persona consumi canapa ma stiamo parlando dei semi maggior parte di persone magari della tua età beh no no medialmente penso che più della metà della popolazione italiana abbia consumato canapa almeno una volta no secondo me no commentatevi no non lo so non lo so cioè non è un'accusa no 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 però boh non lo so vabbè poi beh poi ci sono uccelli minori tipo le quaglie piccione piccione molto buono piccione da noi poco in Toscana però là c'è anche piccione colombaccio che non so se siano due specie perché ho paura quasi che sia una cosa ho quasi paura che sia non è anche la stessa specie ma tipo un po' come che ne so il lupo il cane però non vorrei dire boiate quindi ok no i cereali poi vabbè ci sono la cacciagione quella c'è i uccelli piccoli che però la maggior parte sono illegali però in Italia ecco questo è un problema italiano grosso soprattutto in alcune zone sia alcune zone limitate del nord che nel cosiddetto triangolo cioè un buco nero tra della Calabria Sicilia e Puglia in cui davvero tutti i uccelli migratori d'Europa passano per il là o meno quelli che non passano per la Spagna e lì c'è una strage ogni anno però non si può non si deve è sbagliato no no certamente ok e poi i legumi i cereali abbiamo sì non rimane nient'altro c'è qualche pseudo cereale legumi che io amo perché sì 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 che mangiamo pochissimo rispetto a quello che dovremmo al punto di vista salutistico ecologico sì io mangio anche io le adoro mangio vabbè le lenticchie lenticchie piselli piselli fagioli fagioli tra l'altro ci sono almeno due specie una è il fagiolo dell'occhio che in realtà è l'unico che è africano che ha il calo bianco con l'occhietto nero che è un fagiolo l'unico fagiolo africano perché tutti gli altri il fasolo vulgaris vulgare non so come il nome esatto invece arrivano dal continente americano e lì sono tutte in realtà ci sono più specie però poi sono talmente intricata la genetica che è difficile anche a volte distinguere la specie dalla varietà sì perché poi mentre per gli animali è facile distinguere le specie per le piante sono un casino perché tendono a ibridarsi e soprattutto gli ibridi tendono a sopravvivere per cui è facile mischiare poi ci sono le fave per esempio le fave le cicerchie che però quelle sono poco diffuse sì i ceci i ceci che sono mediterranei se ci pensi all'epoca dei romani la varietà di legume ma di cibo che mangiavamo è molto basso molto basso un sacco di cose è arrivato dopo il riso è arrivato nel medioevo però vedi anche là sì è vero però già il fatto di mangiare molti più legumi già quello rendeva la dieta di per sé più equilibrata la famosa dieta mediterranea era quella che forse mangiavano i romani poi magari avevano grossi altri problemi sbagliavano cose però tipo i legumi è un cibo che noi mangiamo poco e che bisogna mangiare più sì dovrebbe tra l'altro appunto ha una serie di ottime proprietà e poi a me piacciono sì sono buoni i legumi piacciono però i legumi comunque contengono anche un sacco di carboidrati per cui se uno vuole aumentare la quantità di legumi è una cosa sicuramente da fare deve ricordarsi che non sono solo proteine ma sta assumendo anche un sacco di calorie che derivano dai carboidrati non sono un corrispettivo della carne sono un cibo che è una via di mezzo tra poi c'è il discorso complicato del valore biologico delle proteine che non è uguale perché le proteine animali per definizione hanno un valore biologico molto elevato ci sono più aminoacidi diversificati sì della carne ovviamente ci sono tutti gli aminoacidi essenziali in quelle di molti legumi per esempio nei fagioli non ci sono tutti in alcuni sì per esempio la soia per esempio nella soia ci sono tutti però appunto la soia soprattutto ha anche una percentuale di proteine ancora più alta 20 sì dipende dalla varietà a volte perché sono state selezionate anche per produrre la coltivazione di soia in giro per il mondo ha un duplice scopo sia di produrre olio l'olio di soia poi una volta estratto l'olio rimane la farina proteica che si usa soprattutto per mangiare animale poi un pochettino va aglio male quindi legumi l'abbiamo detto quindi delle fave ci sono i ceci tutte le varietà e poi vabbè di legumi che però comunque sono più verdure qua di nuovo non ha senso fagiolini quella oddio non so se i fagiolini siano la stessa specie di fagioli i fagiolini sono la stessa specie perché poi arriviamo al problema delle verdure è questo che noi siamo convinti che devi mangiare specie diverse e invece sta mangiando la stessa specie che è stata selezionata dall'essere umano perché l'essere umano può con la selezione naturale utilizzare i processi evolutivi in modo molto veloce e quindi abbiamo a un certo punto qualcosa che diventa tantissime cioè diventano tantissime sì allora lì tra l'altro comunque noi ne mangiamo tanti se mettiamo insieme sia la frutta sia quella che chiamiamo verdura ortaggi così via per non parlare poi di erbe aromatiche lì è un'altra giusta noi mangiamo un sacco di 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 verdura o di ortaggi non sempre sappiamo distinguere le specie perché per esempio peperone e peperoncino sono la stessa specie ok peperone e peperoncino sono la stessa specie ok solamente che arrivano tutte e due dal dal continente americano in realtà l'origine genetica è nel sud america e però gli uccelli hanno portato ma non è stato domesticato lì veniva usato i peperoncini variamente piccanti venivano utilizzati ma selvatici cioè non è mai stato domesticato lì gli uccelli hanno portato i semi perché non sono sensibili alla capsaicina che viene contenuta e quindi hanno distribuito i semi fino a portare gli uccelli non sono sensibili gli uccelli non sono sensibili alla capsaicina quindi gli hanno però quindi gli piace e quindi gli hanno portati fino in Messico perché è in Messico quindi nel nord america che è stato domesticato il peperoncino e tutte le varie varietà anche quelle poco piccanti che poi arrivati in Europa sono state selezionate soprattutto in in Spagna e in Ungheria per formare quello che adesso noi chiamiamo i peperoni che sono sostanzialmente poi abbiamo fatto quelli carnosi che non hanno piccante ma tra l'altro i peperoncini quelle che noi chiamiamo peperoncini in realtà sono cinque specie diverse tra l'altro i peperoncini sono cinque specie diverse perché c'è il labanero per esempio che è diverso dal classico dal classico capsicum peperoncino il cini poi c'è il tabasco che è un'altra specie insomma ce ne sono cinque diversi qui da noi ne arrivano solo tre ce ne sono due che sono insomma si usano solamente quindi abbiamo qui cinque specie diverse un'altra un'altra altri vegetali che stupirà molti sono la zucca e la zucchina che sono la stessa specie la stessa specie fan parte della stessa specie gastronomicamente le distinguiamo in invernali e estive per cui quando noi mangiamo le zucchine di solito abbiamo selezionato mangiamo dei frutti immaturi verdi che normalmente hanno la polpa bianca mentre invece quelli invernali abbiamo quasi sempre selezionato quelli a polpa arancione perché c'è il betacarotene che diventano poi molto grandi poi hanno una marea di varietà diverse quindi zucche e zucchine una specie di zucca e le varie tipi di zucchine poi le chiamiamo tutte zucchine in realtà ci sono anche lì ci sono varie varietà le coccozelle a seconda della forma le zucchine vere e proprie dal punto di vista botanico sono una varietà di zucca verde domesticata attorno a Milano alla fine dell'ottocento e all'inizio del novecento per zucchina botanicamente si intende quelle cilindriche verdi non striate mentre in realtà a supermercato chiamiamo zucchine anche quelle striate quelle verdi quelle curve che in realtà sono le coccozielle però diciamo invece ci sono delle zucche che non sono delle cucurbite che non sono parenti delle zucchine perché sono di una specie diversa la cucurbita muscata per esempio ce ne sono altre un altro esempio emblematico che a me stupisce sempre è quello del non brassicace anche ma quello del radicchio dell'insalata che in teoria sono se non sbaglio poi correggimi quasi tutta la stessa specie praticamente ogni varietà che noi guardiamo sono davvero molto diversificati poi io sono veneto quindi magari ho un bias nel senso che per me i radicchi non esistono 15.000 ok tutte la stessa specie quindi radicchio rosso radicchio di treviso vabbè sì però lì tra l'altro c'è anche un intervento umano notevole perché deve essere coperto quello di treviso è molto particolare perché ha tutta una lavorazione sua radicchio tardivo sì 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 ma un'altra secondo me è ancora più più forte perché uno dice vabbè insomma è sempre insalata sono una forma un po' diversa se però tu vai al supermercato vedi un cavolfiore vedi i broccoli mi hai convinto e vedi i cavoletti di Bruxelles dici sono diversi i cavoletti di Bruxelles di cose piccoli amarognoli i broccolo che fa un sacco il cavolfiore mangia anche parti diverse da alcuni mangi le gemmescellare gli altri mangi le foglie ma la cosa bella è che sono esattamente la stessa specie e ce ne sono tante altre di variazione perché poi come dici tu appunto a volte sono state selezionate tra l'altro molto molto velocemente perché credo risalgano comunque non più di un paio di secoli fa cioè anche lì sono come le zucchine un'invenzione del novecento o parlando della frutta non so le clementine che sono state selezionate alla fine dell'ottocento anche qui i cavoletti di Bruxelles i broccoli i broccoletti tutte le varie varietà di cavoli perché stiamo parlando alla fine sempre della stessa cosa a volte mangiamo il fusto a volte mangiamo la foglia a volte mangiamo il fiore e quindi la selezione non naturale insomma la selezione umana alla fine apro una parentesi si tende a distinguere la selezione naturale e la selezione artificiale alla fine sono molto simili nei meccanismi la differenza spesso sta semplicemente nella velocità e nel metodo applicato beh anche nella nella volontarietà sì sì però dal punto di vista della pianta in sé il meccanismo è lo stesso tanto che Darwin oddio ci tocca citare Darwin nell'origine della specie parte da lì dicendo guardate quello che è successo alle piante attraverso l'uomo è la stessa roba che succede in natura un po' più lentamente deve risto cioè nel senso la selezione artificiale è semplicemente la selezione naturale spinta alla massima velocità con i pro e con i contro perché i pro sono che hai delle specie molto buone molto belle il contro è che spesso hai un calo della diversità genetica enorme per cui poi hai tutti i problemi del tipo pomodori che perdono il gusto pomodori che si ammalano piante che si ammalano molto velocemente beh allora lì allora lì il problema del pomodori che perdono il gusto non è tanto della diversità genetica lì c'è un effetto pleiotropico negativo per cui è stato selezionato un gene dei geni che erano andavano contro quelli per il gusto allora in parte sì nel senso che il pomodoro industriale quello che noi coltiviamo e quindi deve soddisfare una serie di caratteristiche industriali per poter essere lavorato sia quello da sugo che quello che mangiamo crudo ovviamente è stato selezionato per esempio per aumentare la sua resistenza alle ammaccature perché devi lavorarlo così via involontariamente alcuni geni proprio dell'aroma non del sapore ma dell'aroma dei composti profumati diciamo sono stati sono stati persi però in realtà la variazione diciamo la mancanza di biodiversità del pomodoro così come di tanti altri vegetali che noi coltiviamo deriva è all'origine dal fatto che quando sono arrivati in Europa i pomodori anche loro l'abbè già detto no mi ha parlato di peperoni anche loro arrivano dal Messico e quindi sono arrivati solamente pochi esemplari cioè è un classico esempio di collo di bottiglia un po' come gli esseri umani che sono arrivati nel continente americano e solamente solamente c'è una variazione una diciamo una diversità inferiore perché sono solamente pochi esemplari che vengono quindi la biodiversità è ridotta e quindi quello è uno dei problemi tanto è vero che è quello che si fa adesso mai da un po' di tempo per generare nuove varietà e vanno a beccare tutte le varietà selvatiche che chiaramente non sono più non ci sono in Europa quindi non si possono incrociare casualmente quindi vanno a beccare i vari pomodori selvatici e li incrociano oppure le varietà diciamo domesticate là ma che non sono mai state portate e li incrociano per trasferire dei geni interessanti e così via e così è verissimo per tantissimi altri altri vegetali che adesso noi coltiviamo sono tutti alieni le melanzane arrivano sostanzialmente dall'India sono arrivate col Medioevo le carote sono arrivate dall'Afghanistan anche lì durante il Medioevo appunto i pomodori i peperoni vi hanno detto la maggior parte le cose che mangiamo noi non c'erano per questo che dico se tu vai a leggere a Piccio il libro di cucina del primo secolo se non ricordo male romana tu leggerai delle cose l'unica cosa in cui ti riconoscerai sono i pesci perché i pesci mangiano mangiavano più o meno quello che quelli marini e li facevano sostanzialmente come li facciamo noi a parte cose un po' sofisticate appunto con delle salse sofisticate però a volte non riusciamo a capire cosa mangiavano perché ce ne sono dei nomi che abbiamo perso non capiamo esattamente cioè non capiamo non si riescono a volte già è difficile con le ricette medievali se vai a leggere Mastro Martino è difficile mentre è facile per i pesci o per gli uccelli a parte il fatto che appunto si mangiavano le cicogne le gru qualsiasi cosa volasse se lo mangiavano però di alcuni alcuni vegetali non sappiamo che cosa magari non ci sono più magari sono stati essiti perché ovviamente quello che dicevamo all'inizio quando arrivano delle varietà più buone smettono di coltivare quelle vecchie quindi tu pensa alla cucina italiana di adesso i pomodori i peperoni le zucchine tutta roba che non avevano sono arrivate giusto con il medioevo e poi tanti altri dopo con Colombo e i viaggi cianci c'è un sacco di frutta che mangiamo anche lì che non era presente nel tempo dei romani i romani avevano giusto mele pere le mele arrivano anche loro dal medioevento dal Turchia no le mele arrivano dal 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 Kazakistan e lì la cosa interessante che mi hanno raccontato in contronatura sono state domesticate dagli orsi eh questa lo so infatti volevo farci un video strano su questa cosa però appunto arrivano al tempo dei romani c'erano già non c'erano gli agrumi gli agrumi arrivano tutti dall'Asia li conoscevano il cedro ma perché arrivava perché riesce a sopportare i viaggi non lo coltivavano i limoni sono arrivati molto dopo le arance amare che tristezza le arance amare sono arrivate nel medioevo infatti le usavano come per fare dei sughi la cucina medievale usa il melangolo le chiamavano così per fare dei sughi di carne ma le arance dolci quelle che adesso noi mangiamo comunemente sono arrivate sono arrivate dopo con i portoghesi che li hanno importate e poi li hanno trasferiti in tutto il mondo e così via poi pensa appunto alle pesche alle albicocche le ciliegie le mandorle tutte cose che non c'erano c'erano i fichi ecco i fichi c'erano fichi quindi cucina romana i fichi le olive c'erano conta frutto anche se in realtà dobbiamo farci l'olio e poi cosa c'era ancora i meloni c'erano i meloni africani i meloni così come sia meloni sia quello cocomero o anguria secondo poi delle zone d'italia anche quello era un'origine africana però i meloni erano già già coltivati già coltivati in italia venivano apprezzati Dario ti dico una cosa che mi ha fatto molto ridere e cioè quando prima di iniziare questo video ti ho detto vabbè sarà un video da 5 minuti tanto ma sai che io quando inizio a parlare ci mettevo lì a contare le specie vai è finito però non abbiamo parlato di un testo con me non siamo arrivati a 100 non siamo arrivati a 100 ma non so adesso te lo guardi anzi ogni volta ogni volta che nomino no devi fare questo ogni volta che nominiamo una specie tu devi avere un contatore e vedere che cosa che cosa no va bene abbiamo dimenticato se io ci penso al supermercato cosa manca quando entriamo beh poi ci sono le specie che sono arrivate recentissime alienissime tipo il kiwi che però in Italia sa che con la nuova Zelanda siamo il terzo produttore al mondo no il secondo e poi ci alterniamo con le stagioni perché la nuova Zelanda infatti in un mio video io ricordo questa cosa del secondo in un video che ho fatto poco tempo fa dicevo il secondo ho guardato era il terzo però forse è vero c'è questa cosa credo che poi a seconda appunto delle stagioni perché essendo in emisferi diversi ci spartiamo il ci spartiamo il il mercato e tra la kiwi zona piemontese è piena di kiwi sì sì ma anche ma anche nel sud Italia tra l'altro è invasivo c'è la giummia madre l'india che non so quando sono arrivati i fichi d'india essendo essendo americani sudamericano forse anche messicani comunque diciamo nel continente americano saranno tutti quelli arrivati dopo dopo i viaggi di Colombo tra l'altro la cosa interessante culturale le patate non ci siamo le patate anche quelle arrivate cioè i romani non mangiavano patate fritte ma neanche nel medioevo le patate sono ovviamente arrivate dal perù con i viaggi non di Colombo ma degli altri degli altri viaggiatori però non sono state accettate per 200 anni così come i pomodori i pomodori non sono stati accettati perché infatti sono stati riprodotti in giro per l'Europa queste sono tutte storie che racconto nel mio libro sulla scienza delle verdure che non so se uscirà prima o dopo uscirà prima o dopo il tuo video comunque sì uscirà il 7 novembre ok ragazzi in realtà non è vero nel senso che questo video è stato girato mesi fa e è stata cambiata la data di pubblicazione del libro che non è più il 7 novembre ma il 14 quindi se state guardando il video il data di pubblicazione è dopo domani altrimenti il 14 novembre il libro va bene è la scienza delle verdure ne abbiamo appena parlato ne parleremo ancora adesso nel resto del video questa è la copertina me l'ha mandata Dario guardate che carina se volete vi metto già in descrizione anche il link Amazon per fare il preordine se lo guardate prima del 14 o eventualmente per comprarlo detto questo fra poco ci cacceranno dal dipartimento in cui eravamo e così capirete perché sono le 7 quando abbiamo girato quel video lì e stava per chiudere tutto quindi a un certo punto dovevamo andarcene così capite anche cosa sta per succedere che magari potrebbe sembrare strano sentire una voce fuori campo che dice è ora di andare via questo era tutto vi lascio il resto della chiacchierata no perché ho fatto volevo fare un libro di cucina ma anche scientifico per cui per ogni vegetale o famiglia di vegetali ho fatto anche sì ho raccontato la storia perché non lo sappiamo non lo sapevo anch'io e dicevo sì sì poi dai prego è ora di a cavoli sono 18.47 5 minuti e andiamo via anche perché se no mi chiudono la macchina ok ok dobbiamo andare dobbiamo andare questo lo tengo perché è bellissimo va bene va bene quindi niente la patata dicevo vi discorso veloce è arrivata qui ma non sapevamo come cucinarla non avevamo mai mangiato nulla che c'era sotto terra mangiavamo solo da parte fuori anche il carote ti ricordo che in realtà non venivano utilizzate non c'era nell'epoca romana cucinandola non si sfaldava hanno provato a usare a farne del pane ma ovviamente non avendo dentro il gru non si riusceva a fare nulla e quindi è rimasta è rimasta così prima di imparare a farle fritte perché non ci avevamo mai provato a farle fritte è rimasta lì così per quasi 200 anni e questa è una delle domande del tipo vabbè adesso ho troppe parentesi però c'è tutto ci sono dei saggi in cui si parla di come l'arrivo delle patate le patate tra i maori abbia comportato delle grandissime differenze a livello culturale perché patate voleva dire un surplus di produzione enorme per cui potevi viaggiare di più questo causava proprio cambi culturali tipo più guerre che duravano più a lungo tra le popolazioni magari quanto sarebbe cambiato la storia d'Europa se avessimo iniziato a mangiare le patate prima beh la storia d'Europa è stata molto influenzata tra l'altro dalle patate però pensa appunto duecento anni ci sbottano fuori dall'ufficio per cui non possiamo però tu pensa alla storia beh tutta l'emigrazione dell'Irlanda dopo la famosa crisi delle patate comunque però invece il mais dopo 50 anni che è stato portato qui è stato immediatamente utilizzato perché? perché c'era già una ricetta che era la polenta che adesso nella polenta associamo il mais ma invece no la polenta è una ricetta romana che deriva da puls e sostanzialmente la facevano col miglio ecco un altro di quei cereali che abbiamo che adesso diamo i pappagalli miglio che era la base dell'alimentazione sia dei romani che anche della cina il miglio il miglio rotto faceva una zuppa che era la polenta nel momento in cui è arrivato il mais hanno detto il miglio meglio il mais che è più buono più produttivo e quindi è un caso di ricetta che esisteva già al tempo dei romani è rimasta il nome ma ha cambiato ingrediente e quindi nel giro di pochissimo è stata utilizzata per le patate non c'era nessuno che aveva utilizzato delle cose simili che potevano essere sostituite con le patate vabbè ragazzi ciao noi vi salutiamo Dario grazie mille grazie a te per la chiacchierata abbiamo parlato anche troppo ciao ragazzi ci vediamo ma le chiacchierate una ogni tanto sei male in anno ok ciao a tutti ciao spero che il video vi sia piaciuto le due schede che vedete sono il canale di Dario se per caso non lo conosceste oppure la playlist dei miei video migliori se per caso non conosceste il mio canale detto questo io vi saluto e vi ringrazio per aver guardato l'intero video ciao ciao